buongiorno e buona giornata e buon fine settimana a tutti oggi sabato 23 maggio 2020 bene prima di farvi ascoltare la registrazione fatta da me con Nicola Zecchillo per la puntata di oggi del deluxe show volevo un attimo un po dire che praticamente per fortuna oggi è possibile fare essere qui col computer con la linea di casa perché ieri purtroppo tornando che ero avevo fatto una passeggiata la spia della connessione al mio modem era rossa quindi non avevo connessione fortunatamente quello che avevo fatto ieri l'avevo portato a termine ciao Stefano vedo che sei stai partecipando alla diretta niente qui oggi appunto sono con voi per il resto adesso manderò in diffusione la registrazione mia con il mio amico Nicola Zecchillo per la puntata odierna del deluxe show buona scolta a tutti siamo in registrazione io al caro Nicola qui nella mattinata quasi mezzogiorno di questo venerdì 22 maggio allora Nicola che cosa ci dici di farlo che cosa ci dici di bello sei andato a San Magno sei tornato anche tu nella tua barrocchia diciamo di di destinazione eh io ieri ho partecipato all'adorazione eucaristica beh diciamo che in verità come ha il suo l'agio così ma non come si sfatto a del Vangelo come dicono le letture in verità in verità ti dico che ieri diciamo è stata credo per me un po' la prova perché come posso dire il discorso delle mascherine è una cosa che sicuramente ci siamo abituati ma l'altra abitudine che adesso adesso dobbiamo come si sono in prendere sarà quella quando ognuno di noi andrà in parrocchia per la messa o l'adorazione di come posso dire di saper convivere con la mascherina perché ricordo comunque che in parrocchia è assolutamente vietato stare senza mascherina o a passarla durante la celebrazione perché per esempio io ieri che ero arrivato in pratica la celebrazione dalle 19 e 30 stava quasi finendo e infatti proprio la signora della segreteria mi ha indirizzato un po' dove mi dovevo sedere perché ovviamente questi sono i primi giorni quindi bisogna prendere di nuovo un po' di convivenza con la parrocchia perché alla fine siamo stati abituati alla fine febbraio ed inizio marzo con delle messe quant'altro attraverso il computer o attraverso la televisione ma comunque parlando invece di oggi di questa mattinata di venerdì sono contento proprio finalmente dopo un paio di giorni ritorniamo a essere sereni anche in virtù di questo bel tempo del sole che ci fa compagnia quest'oggi e speriamo per tanti altri giorni ovviamente senza un caldo eccessivo però niente poi che altro dire che diciamo che ogni telegiornale quotidianamente ovviamente ci informa su su quello cioè sulla situazione che alcune realtà stanno provando a diciamo a tentare di mettere su una cura oppure un vaccino anche se anche se come sai anche tu non è facile perché il vaccino come si dice se tutto ci va bene ci verrà reso ci verrà reso disponibile o alla fine dell'anno o a gennaio speriamo che quando esce il vaccino non come dire non ci saranno problemi poi per chi nel dare l'impegnativa a tutte le strutture sanitarie che dovranno fare il vaccino in maniera tranquilla senza creare problematiche lo pensi anche tu e io diciamo diciamo che sei arrivato quando mi stavi chiamando sei arrivato a puntino perché stavo finendo qui al computer un'altra mia trasmissione che avevo pre-registrato ieri quindi però io ora ti chiedo una cosa caro Nicola lo so che forse è un po' difficile scegliere non cosa sia meglio magari una tua preferenza personale se dovresti riflettere un attimino secondo te come posso dire un tempo impegnato in campagna può essere migliore per esempio di un tempo impiegato in una struttura al chiuso dove magari ci potrebbe essere più pericolo per il contagio sì nel senso che preferisci tu stare in campagna e sì anche perché poi parlando di campagna fortunatamente la natura nonostante il lockdown ha fatto il suo percorso io sto iniziando a mangiare anche le prime ciliegie mia madre è riuscita a trovare le prime ciliegie diciamo nei venditori d'ortofrutta non so se anche tu stai mangiando le prime ciliegie in questi giorni comunque la ciliegia che a proposito per quanto riguarda l'alimentazione io che sto oggi finirò un corso online con le campiende dedicato all'alimentazione la ciliegie comunque è un alimento che come anche tanti altri cibi comunque preferisce una consumazione abbastanza veloce perché poi magari se rimane per tanti giorni nella ciotolina o magari si possono creare quelle muffe insomma tutte quelle cose che quei microorganismi che poi se si vanno se noi mangiamo quella ciliegie che ha una muffa o ha qualcosa che non va magari se ne mangiamo solo una di quelle potremmo avere una piccola conseguenza magari un po' di mal di pancia così l'importante però se siamo alla presenza di più ciliegie ho preso albicocchio pesche che hanno muffe quindi che hanno quelli elementi che se noi mangiamoci potremmo stare poco bene se ne sono tante no se ne parliamo di una sola mangiate involontariamente diciamo potrebbe anche non succedere niente quindi ora vediamo un po' fammi controllare allora vediamo beh parliamo qualche altro minuto raggiungiamo più o meno dieci minuti beh oggi questa mattina io che sono rientrato più o meno quasi un'oretta fa da lavoro sono stato bene poi dove vado io con mio fratello il venerdì a pulire questi due condomini che stanno in uno stesso palazzo scala a scala B c'è uno spazio da giardino diciamo purtroppo il brutto tempo dei giorni passati ha provocato abbastanza vento quindi ci c'erano molte famigliate comunque è stato è stato diciamo piacevole magari stare fuori un po' per pulire il giardino poi è normale la cosa principale poi è ovviamente la pulizia diciamo dei due che abbiamo fatto della scala a scala B allora sì ti volevo informare così magari poi andiamo a chiudere questa nostra pre registrazione io con il mio gruppo di rinnovamento nello spirito praticamente da questa sera fino a sabato 30 maggio faremo una novena di pentecoste dove praticamente la responsabile del nostro gruppo ci ha detto che ogni sera ci vedremo per 45 minuti sulla piattaforma che utilizziamo anche la domenica e in pratica se non mi sbaglio come ci ha comunicato che per esempio per questa sera ognuno di noi dovrà avere con sé una croce io ho chiesto anche mi è stato detto che va bene anche una croce del rosario per esempio e poi visto che diciamo domenica 31 maggio sarà la domenica di pentecoste poi diciamo la nostra parrocchia organizza per il lunedì invece primo giugno una santa celebrazione dove parteciperemo noi il gruppo del rinnovamento invece a San Magno che cosa diciamo che cosa bolla il pentecoste in vista della pentecoste? e quindi la domenica no dico anche lì verrà fatta una... una... come qua... si la messa si è normale volevo dire a San Magno verrà fatta magari tipo come oggi o meno una novena oppure... ho capito... beh Nicola allora che cosa possiamo dire... mi appresto io domani a vivere la santa celebrazione appunto di questo fine settimana e tu invece parteciperai come amministrante? sì mi sarei quando? al sabato o alla domenica? ah ok e a San Magno diciamo scusa se ti chiedo questa cosa per confrontare un po' al sabato a San Magno viene fatta la messa alle 19 o alle 19.30? alle 19.30 ah ok sì sì ma beh diciamo che la maggior parte delle parrocchie poi non mi ricordo proprio a Berconque poi quando arriva giugno se non mi sbaglio tutte le parrocchie cambiano un po' l'orario delle salle messe sì sì bene Nicola allora ti ringrazio abbiamo fatto quasi un quarto d'ora qui di registrazione ti auguro buon proseguimento di giornata ti auguro buon proseguimento di giornata quindi ricordo a te e anche a chi ci ascolterà domani che appunto la giornata di domani sabato 23 maggio sarà pubblicata questa mia questa mia e tua proposizione della nuova puntata del nostro programma quindi ti saluto caro Nicola di nuovo buona giornata ci sentiamo quando c'è bisogno privatamente su facebook e poi settimana prossima vediamo un po' quando possiamo fare la prima puntata ok ciao Nicola ciao ciao bene cari amici scusate un po' per la durata un po' lunghina della registrazione realizzata da me e da Nicola quindi ricordo ovviamente questa diretta sarà disponibile poi come di consueto anche su youtube poi per gli altri appuntamenti ovviamente poi ci saranno diciamo le varie pubblicazioni e condivisioni sui miei vari canali social i soldi che conoscete youtube facebook instagram e twitter io vi ringrazio tutti vi auguro di nuovo buon proseguimento di giornata buon fine settimana alla prossima ciao 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 ciao